Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Adesso tu esci fuori da qui. Porta rispetto a questa ricazza. Non mi frega un cazzo. Stavo schifando però... Come faccio così? Ehi! Ehi! Amo! Guarda che do... Yeee! Clippate. Questa è la storia. Comunque è troppo bello, io. Non abbonbo, io. Sto morendo. Ehi! E vabbè! Sto chiesto! Sto chiesto! Vai, vai, continua. Guardia. Domani dovete lavare il doppio qua. Se vuoi, puoi prendere un po' di fiato. Un po' di fiato. Continua, è meglio. Continua, vai, vai. Vai, vai. Avvisa con i tuoi figli. Che continuo io. Ma come continuo io? Ma come continuo io? Di lui. Que di lui beh! Di lui qua! Vagontini? Sà... 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 Ahahahahha Prima... Devo provare una discrezza, però... Lascio che passare. Questa è la nostra officina, maglio. Oh! Oh! Eh, ma vencì! Oh! Oddio! Charm... Oh! Oh! Guarda, ma che aveva fatto il sacco di due, basta! Ma che sei? Ciccacetto! Ma che sei? Che dici? Mi sono sciacquato le palle. Ah! Mi sono rattato la rasta che ci ho sento la Valera. Non ti preoccupare, mi sono lavato con la spugna la saponetta. Quando la son filato nel culo. Oddio! Ma la saponetta! Allora, questo sta venendo scendendo... Bella! Che di questo qua all'esterno? Che lo mettiamo qua? È perché qua come viene il computer, ragazzi. Pensate un po' meglio, devo fare così. Capito? Eh... No, ma sono piccole proprio perché non c'hanno il pezzo e non c'hanno il... Maronna, che paura! Mannaggia, Gesù Cristo! Non c'hanno il pezzo. Ma quanto cacazzo! Non c'hanno il pezzo sotto, non c'hanno! Ma chi sei cretino? Non c'hanno il pezzo sotto, non c'hanno niente. Ma io... Ma chi era? Clementino! Non c'hanno il pezzo. Ma da circa 39.000 anni fa ha seguito... 39.000 anni fa, il donio non c'era neanche. Una delle più grandi eruzioni vulcaniche... Conosciute, chiamata Inimbrete Campana. Questa edizione ha depositato una spessa colpre di cenere vulcanica su gran parte dell'Europa Meridionale. Successivamente... Fatemi scassato cazzo, ma do banno proprio. E vattene un buchino di... Ma perché? Il tuo napolitano, il chiamo tu cazzo a culo. Maronna Sam. Ma perché? Sono ingojonito. Eh ma boh. a luttugàts, a tabria blu baixgi. meva, fa' questo sin35... uè 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 porco doido sono zinu Stavo cagando Perfate un zotzdem. e stanno arrivando tutti quanti ma la faccia no no così dice vedi qua sì è vero io mi vedo dobbia essere il tuo alcalde porco dio è cascata la web madonna mia che paura che buon manese stringila 10.000 con la zazza 85 masa i nostri avvicinato tanto davide 2,50 pure tu ti sei avvicinato forse qualcosa in più 3,20 no 3,20 2,70 2,70 ma questo va a fare vita va a fare che ammazza sei avvicinato esprimovere mannaggia gesù cristo ma c'è cagato sotto porco dio io lo spompini ma non mi piace il cazzo quindi questo è ciò che ho trovato sul web per maestro lo squalo moriello è un signore mi ha regalato la sabato io lo spompini dai un'occhiata e che ha trovato e si di porno x x x vabbè no poi ci andavo in passato vabbè amore in passato ci andavo e l'iPhone non se lo ricorda no x x x andavo e e e e sì c'entra l'iPhone e o e amore vedi che non fa le situazioni così stavo stavo lo staff di Twitch in live e mamma e no non volevo e to bello ci va così abbiamo amore dono me lo aspettavo che ma in casa mia vado a riprendere subito amore è il popolo amore madonna che schifo lavalo prima io mi a te an a un me ti a